delle amministrazioni pubbliche di cui io sono il direttore e il vice direttore è il professor Gabriele Bottino, siamo di due dipartimenti diversi, io sono alla facoltà di giurisprudenza quindi qua con i miei studenti di giurisprudenza e il professor Bottino insieme al professor Matteo Iessula che è qua di fianco a me alla facoltà di scienze politiche dove io sono stata tanti anni e che amo moltissimo devo dire sempre. Ecco quindi l'obiettivo è di scegliere un libro di particolare importanza per il dibattito nell'attualità e di discuterlo insieme tra studiosi ma anche coinvolgendo i nostri giovani perché in ultima analisi queste tematiche sono sempre tematiche che vanno a inquadrare delle problematiche che riguardano sì noi ma soprattutto che riguardano il futuro, il futuro nostro ma anche il futuro nella prospettiva dell'Unione Europea e quindi che hanno bisogno di un approccio non solo nostro ma anche portato avanti dalle nuove generazioni. Quindi io vi ringrazio semplicemente tantissimo tutti per essere qui con noi, adesso lascio la parola al professor Bottino che farà l'introduzione e che poi introdurrà anche i relatori che lo seguono e noi siamo qua e poi interverremo eventualmente anche i miei ragazzi con delle domande e con delle riflessioni a valle dei vostri interventi. Grazie mille. Gabriele ti lascio la parola e direi che spengo il microfono se no. Sono io che ringrazio di cuore, attendo che Matteo metta online. Sono io che ringrazio di cuore la professoressa Galetta e la professoressa Galetta e la professoressa Galetta che ha il nostro centro di ricerca e i giovani che lavorano con noi e tutti i presenti. In particolar modo il professore Iessula e il professor Pavolini che si stanno connettendo che ci hanno donato questo volume, direi molto importante per le brevi parole che spenderò in sede di introduzione e che ci consente di fare una cosa che è l'essenza stessa di Ceridap. Il centro nostro di ricerca è nato con un ancora sovente con la professoressa Galetta ci chiediamo qual è il momento in cui è nato realmente e quando l'idea è diventata fatto e forse non c'è stato nemmeno un oiato nel momento in cui lo abbiamo ideato è stato fatto. Con un preciso scopo, anche in ragione della provenienza comune dall'apertura delle scienze sociali e politiche, di pensare che il diritto delle amministrazioni pubbliche non può essere il diritto amministrativo italiano ed europeo mai mai scisso dal dialogo con le altre scienze ed in particolare con le scienze sociali, con le scienze politiche e con le scienze economiche. Questo è lo scopo e l'essenza stessa di Ceridap. Il diritto e i giuristi, in particolare i giuristi che amano e studiano la pubblica amministrazione, trovano in questo conforto, in questo continuo colloquio, una fonte inesauribile. E qui la professoressa Galetta, la studiosa del diritto amministrativo europeo, sa quanto il diritto amministrativo europeo si inutra molto di più ancora di quanto faccia il diritto amministrativo nazionale. Ed è per questo che ringrazio i due autori e coautori e curatori del libro, Matteo Essula, collega carissimo di dipartimento e studioso Insigne, credo che in ambito di sistemi pensionistici sia tra i pochi nell'orizzonte di ricerca europeo, anzi ne sono sicuro ad essere così attento e studioso da tempo conoscitore, che è professore ordinario di scienza politica alla Università degli Studi di Milano. E il professore Emanuele Emanuele, con due M, Pavolini, che è professore anche di scienza politica, ma in realtà in questo momento di sociologia economica e del lavoro, presso l'Università degli Studi di Macerata. E tra l'altro questo è anche molto bello perché segnala come colleghi anche distanti collaborano nella sua vita. Quindi il diritto qui ragiona con uno scienziato politico e un sociologo dell'economia e del lavoro. Chi abbiamo chiamato per ragionare su questi temi che il libro ci presenta? Abbiamo chiamato, credo, le persone che meglio possono realizzare questo dialogo. Il professor David Natali, che è professore ordinario di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e che vi presenterò poi al termine dell'introduzione. L'avvocato Ernesto Maria Ruffini, che è il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e che ringrazio particolarmente perché, a quanto mi consta, dopo la sua conferma alla direzione dell'Agenzia delle Entrate e per quello che vi dirò poi quando lo presenterò, le sue apparizioni nell'ambito della ricerca, nonostante noi lo compulsiamo continuamente, sono poche perché di una riservatezza e di un'umiltà pari soltanto alla sua preparazione e umanità. E il professor Tommaso Nannicini, che forse, come dirò quando lo presenterò, è stato colui che ha dato origine anche tante cose a tutto questo. Il professor ordinario di economia politica, una volta si sarebbe detto di economia pubblica, ha la Università Bocconi, ma ha insegnato ad Harvard, ha insegnato a Madrid e altresì è stato sottosegretario di Stato all'interno del governo Renzi alla presidenza del Consiglio dei Ministri con la delega proprio fiscale al fisco e all'università e poi è stato altresì senatore nella ultima legislatura. Ma soprattutto è uno dei pochi professori e studiosi italiani che alla sua giovane età vanta pubblicazioni in quelle che gli economisti chiamano le top five e chi conosce queste riviste americane, economia, sa quanto sono prestigiose e quindi quanto il lavoro di Tommaso sia conosciuto in tutto il mondo. La mia introduzione sarà molto breve perché dirò brevemente che cosa e perché a me è interessato molto questo volume. Chi mi conosce sa che da un po' di tempo sto studiando le spese pubbliche e in particolare il fatto che prima ancora di dire che dovremmo spendere di più non riusciamo sovente a spendere le somme già stanziate in bilancio quindi autorizzate dal circuito dell'indirizzo politico e non riusciamo a spenderle sia a livello statale sia a livello nazionale sia a livello regionale sia a livello locale da nessuna parte e non mi riferisco soltanto alle spese di investimento ma purtroppo anche alle spese correnti. e questo è un tema a mio avviso molto importante nel momento in cui l'intervento pubblico dello Stato e dell'economia assume forme attive di questo tipo sempre più rilevanti. Ricordo tra l'altro a me stesso che la stessa legge madre di tutto il diritto amministrativo italiano all'interno dell'articolo 12 dedica proprio alle norme fondamentali un articolo ai modi e ai criteri con i quali le pubbliche amministrazioni devono erogare questi finanziamenti, incentivi, sorvenzioni e in maniera certamente profetica l'articolo 12 al 241 aggiunge in qualunque maniera denominati una dimostrazione del fatto che indipendentemente dal nomen iuris ossidio, finanziamento, sorvenzione l'oggetto della prestazione è sempre la attribuzione di una somma di denaro a dei soggetti privati o dei soggetti pubblici agli operatori economici se devono essi cittadini o operatori del mercato ora perché è interessante e fondamentale il libro di Iessulle di Pavolini perché se questa potremmo definirla una mano visibile dello Stato sociale cioè la possibilità che lo Stato il settore pubblico nel suo complesso intervenga direttamente mediante delle spese a sostenere il welfare sociale e tutto sommato è quantificabile questa mano visibile tant'è che io cerco di dimostrare quanto pur essendo quantificabile non possa essere per problemi di natura anche giù scontabile non porti alla effettuazione della spesa c'è un'altra mano potremmo dire la sinistra o la destra non importa un'altra mano che agisce sul medesimo oggetto ma che in viceversa è invisibile o quantomeno più latente meno visibile della prima perché la prima si vede attraverso l'erogazione di una somma di renato e questa seconda mano è il cosiddetto welfare fiscale o anche denominato con denominazione anglosassone il tema delle tax expendito ora la bellezza del libro di Iosula Paolini inizia proprio qua perché e io qui esprimo il mio apprezzamento per la loro capacità di partire dai classici in particolare da un da uno scienziato politico che loro stessi dicono essere stato non sufficientemente apprezzato TITMAS e che bisogna ripartire da questo scienziato politico che aveva individuato tre tipologie di welfare fra cui il welfare fiscale e appunto il welfare sociale ora qual è il punto e perché è invisibile questa mano è semplice diciamola come la dicono gli autori all'inizio del 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 libro citando espressamente una frase di un ministro e autore della legge azione tributaria che certamente il professor Tuffini avrà in molte immagini presso la sua agenzia Ezio Vanoni la frase è una esenzione fiscale in questo paese non si rifiuta a nessuno esenzione agevolazione detrazione deduzione sappiamo che esistono delle chiare differenze certamente la deduzione come molti di coloro che ci ascoltano sanno riguarda la base imponibile viceversa la detrazione normalmente riguarda la imposta da pagare l'esenzione addirittura incide sulla struttura del tributo perché è appunto esenta dalla base imponibile determinati presupposti imponibili in ogni caso tutte queste denominazioni portano a far sì che il mio carico fiscale di me come cittadino come operatore economico sia ridotto io quindi sia chiamato a pagare un imposta inferiore o meglio ricordando articolo 53 della costituzione io sia chiamato a contribuire un po' meno alle spese pubbliche perché la mia pur avendo capacità contributiva che consente questo io al tempo stesso però sono meritevole di prestazioni sociali appunto di prestazioni ascrivibili alla welfare sociale che mi consentono di essere esentato e avere agevolazioni fiscali detrazioni o deduzioni l'esempio più chiaro e più semplice che ci può venire in mente a tutti noi è la detrazione per le spese mediche ciascun soggetto può detrarre dalla propria dichiarazione se ricordo bene se soprattutto il mio commercialista non ha sbagliato perché altrimenti il professor Ruffini me lo farà sapere presto che mi pare ad oggi essere pari al 19% delle spese che io sostengo ogni anno questo è semplicemente un esempio così come invece la esenzione dalla base imponibile di determinati assegni volti a sostenere appunto il soggetti in condizioni economiche difficili o addirittura non abienti ora questa è la mano invisibile perché si vede molto meno cioè in realtà questo Ruffini la vede perché vede che le entrate se cambia qualcosa su questo le entrate da un anno all'altro diminuiscono le entrate dello Stato le entrate sulle da imposte e sono tante tanti miliardi di euro tanti miliardi di euro e perché sono importanti questi miliardi di euro e quindi anche definire la l'ambito l'ampiezza come dicono gli autori che cos'è welfare fiscale all'interno del welfare sociale cosa non lo è perché da molto tempo e mi avvio la chiusura dell'introduzione in maniera apartisan ogni ipotesi di riforma fiscale italiana sia essa rivolta verso ipotesi di flat tax o semplicemente ogni riforma fiscale volta a ridurre il numero delle aliquote eccetera nel momento in cui si deve ipotizzare perché oggi ce lo impone l'articolo 81 della Costituzione la relativa copertura finanziaria per garantire equilibrio di bilancio non manca mai l'affermazione che la linea direttrice principe per garantire questa copertura della riforma fiscale qualunque essa sia è una razionalizzazione non voglio dire anche una riduzione lo ascolteremo dagli autori e ascolteremo soprattutto ai discussant di queste tax expenditure proprio in questi giorni sono in corso al Ministero dell'Economia e di Finanza e le audizioni sulla delega fiscale attuale e il Professor Ruffini è da poco tornato ed è qui con noi dopo essere stato proprio a svolgere la sua audizione su questa delega fiscale e quindi anche sulla rilevanza per la copertura di questa delega fiscale che ha la riforma la rivisitazione la qualsiasi intervento su queste spese fiscali mi taccio e ho introdotto il tema e lascio dunque la parola al Professor Natali che ricordo a me stesso e a tutti i presenti che oltre ad essere professore di scienza politica ordinario alla prestigiosa Scuola Sant'Anna di Pisa dove insegna UN Comparative Politics è anche ricercatore associato dell'Osservatorio Europeo Sociale l'OSE di Bruxelles è direttore del dottorato di ricerca in Transnational Governance della Scuola Superiore Normale di Pisa e ultimo ma non ultimo e qua vediamo proprio la chiusura del cerchio è professore alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Roma e quindi prego al Professor Natali David a te la parola e grazie di cuore per la tua partecipazione grazie Gabriele spero mi sentiate mi scuso per non essere presente fisicamente a Milano ma vedo che come dire la modalità online è ben come dire ormai maturata da tutti noi e quindi riusciamo anche a farla in questi termini anche se ovviamente mi manca diciamo così la presenza fisica degli amici nonché autori e curatori del volume allora seguo un po' la falsariga di quanto già introdotto da Gabriele e cercherò di strutturare il mio intervento su quattro punti che sono altrettante dimensioni di analisi e interpretative che sono proposte dal volume e che rispecchiano il background indicato dallo stesso Gabriele in primo luogo di tipo disciplinare che mi caratterizza sono uno scienziato politico e quindi cercherò in qualche modo di individuare quali sono attraverso le lenti interpretative della scienza politica gli aspetti che mi sembrano più rilevanti più interessanti di questo volume parto da una breve annotazione la più breve possibile che però mi premeva in qualche modo indicare allora ormai diciamo nell'ambito delle nostre discipline in termini di valutazione delle strategie di pubblicazione le opere collettane vengono valutate poco sempre meno direi a vantaggio invece di altre modalità di pubblicazione perché si ritiene che sostanzialmente il valore aggiunto sia piuttosto limitato al pari dell'investimento di carattere scientifico e intellettuale ecco mi sembra che invece questa opera collettane alla mano invisibile dello Stato Sociale dimostri esattamente il contrario che è giusto investire su opere collettane e che il lavoro collettivo di molti colleghi soprattutto quando ha questi tratti tipici diciamo così della interdisciplinarità risulta estremamente rilevante estremamente arricchente se penso come dire anche alla mia formazione devo dire che le opere collettane anche di molti degli autori dei singoli capitoli di questo volume penso ad esempio a Duco Ascoli sono state in realtà estremamente formative sono state quelle che hanno contribuito direi quasi in misura maggiore alla mia capacità di comprensione del welfare state delle politiche sociali e dei lavori in Italia quindi un plauso a Emanuele e a Matteo perché hanno come dire colto la sfida di investire su un'opera collettanea che dimostra ancora una volta la capacità di descrivere interpretare e spiegare un fenomeno così complesso come quello appunto del welfare fiscale e dell'intreccio complessissimo tra welfare fiscale welfare sociale e welfare occupazionale per come sono definiti originariamente da Titus allora direi che per quanto riguarda invece i quattro punti più specifici diciamo che io propongo un po' la riflessione su cui chiamo in causa gli stessi autori parto in realtà da una riflessione che è quella che viene proposta dal capitolo 2 legato cioè alla quantificazione del rilievo del welfare fiscale in Italia e come tutte le ricostruzioni diciamo più accurate che si rispettino partire dal dato empirico e dall'evidenza ricostruendola con non poche difficoltà è sicuramente uno dei meriti rilevanti di questo volume che direi quasi per la prima volta o comunque tra le prime volte in Italia riesce a appunto individuare quantitativamente il ruolo del welfare fiscale e lo fa individuando una misura per così dire emblematica oltre 70 miliardi di euro riferiti all'anno 2018 che evidentemente rappresentano una quota significativa poco meno del 15% di tutto diciamo così il welfare effort italiano e della spesa per il welfare in Italia da un punto di vista pubblico quindi da questo punto di vista un ruolo importante e un ruolo crescente nel corso del tema questo elemento richiama un primo aspetto che ha a che vedere con gli strumenti del welfare allora in realtà il concetto di strumenti è un concetto ambivalente che può essere declinato in tanti modi un primo modo di declinarlo è proprio quello degli strumenti tipici diciamo così appunto della produzione di welfare e diciamo diatriba una discussione che ha in qualche modo caratterizzato l'analisi del welfare e della sua trasformazione negli ultimi 30 anni ha spesso richiamato in Italia il rapporto tra trasferimenti e servizi e direi grazie anche al lavoro dei due curatori e dei diversi contributor del volume anche oggi sappiamo quello ruolo significativo delle agevolazioni fiscali e qui una prima riflessione diciamo critica può in qualche modo porsi e come dire la rimando anche ai curatori affinché ci diano la loro interpretazione concreta cioè in realtà vedendo l'evoluzione storica si identifica questa sorta di paradosso quando appunto gli studiosi del welfare della nostra generazione hanno iniziato a ragionare di riforma del welfare uno dei punti maggiormente critici era proprio l'assenza dei servizi si è sempre detto il welfare italiano è un welfare carico di trasferimenti povero di servizi è necessario ricalibrare il welfare italiano perché altrimenti non riesce ad essere adeguato rispetto ad un contesto socio-economico che è in profondo cambiamento e il ulteriore dato rilevante che viene proposto dai due curatori è che in realtà il ruolo dei servizi è calato ulteriormente nel corso del tempo e questo è un primo dato direi un primo spunto di riflessione che viene proposto dai curatori in generale diciamo dai contributor del volume effettivamente dunque c'è un problema di servizi che in qualche modo si restringono sempre più progressivamente soprattutto quando inseriamo il tema delle agevolazioni fiscali nell'ambito del quadro diciamo interpretativo e dunque la domanda che faccio appunto anche ai curatori è questo dato appare in controtendenza rispetto a diciamo la retorica di riforma del welfare che pure ha accompagnato gli ultimi 30 anni di riforme cambiamenti innovazioni come interpretarlo come fallimento di una strategia di riforma lunga diversi decenni oppure come un quadro più articolato in cui le stesse agevolazioni fiscali in realtà nascondono un investimento nell'ambito dei servizi che però sono servizi privati profit o non profit che siano e non sono servizi pubblici come quelli che ci saremmo in qualche modo immaginati il secondo aspetto che mi sembra estremamente rilevante è quello proposto invece dal capitolo scritto dai due puratori insieme a Ugo Ascoli ed è una sorta di diciamo traccia evolutiva del welfare fiscale accanto agli altri alle altre tipologie di welfare evidenziate nell'ambito del volume stesso individuando sostanzialmente tre fasi storiche ben delineate la fase chienesiana chiamiamola così fino alla fine degli anni 80 inizioni 90 la fase di austerità o di contenimento dei costi e poi la fase invece di una sorta di rilancio di nuovo sviluppo del welfare che in qualche modo si realizza dopo l'esperienza del governo Monti e a partire diciamo da governi più connotati politicamente nell'ultimo scorcio storico dal 2012 2013 fino ad oggi allora in questo caso direi che questa analisi di carattere storico permette di come dire mettere un po' in discussione una ricostruzione che pure viene più volte riproposta anche nell'ambito del volume e cioè il fatto che l'espansione del welfare fiscale venga interpretata come una sorta di navigazione senza rotta uso le parole proposte da Bosi e Guerra molti anni fa quando appunto si concentravano su questo tema cioè sostanzialmente una serie di innovazioni di cambiamenti di riforme che mancano organicità mancano un disegno coerente che in qualche modo ne determini la natura e il contenuto sostantivo in realtà però quando si fa una periodizzazione più lunga sembra che come dire questo sviluppo progressivo del welfare fiscale non sia solo una navigazione senza rotta è sicuramente oggetto di interventi anche di natura micro molto difficili da aggregare in un disegno complessivo ma alla fine corrisponde in realtà ad un disegno complessivo di ridefinizione del welfare italiano sia in termini strumentali quali sono gli strumenti che si utilizzano per realizzare i processi di protezione dei principali rischi sociali sia in termini di organizzazione istituzionale quanto conta lo Stato quanto conta il provider privato sia esso for profit o meno e dall'altro anche in termini di effetti redistributivi dello stesso e quindi la domanda che pongo un po' che mi pongo e pongo a tutti voi è se in realtà come dire lo sviluppo esponenziale del welfare fiscale sia o meno il risultato di un disegno politico che può essere più o meno come dire esplicitato a monte può essere anche semplicemente un risultato non totalmente preventivato di una serie di misure ma che comunque ha una sua coerenza e che di fatto ridisegna il welfare con alcune connotazioni ben definite in termini redistributivi in termini istituzionali e in termini anche di attori che svolgono un ruolo significativo nell'ambito dello stesso e quindi da questo punto di vista si pone un problema di come interpretare questa nuova fase di rilancio per così dire del welfare in Italia che però avviene con strumenti diversi da quelli del passato e qui faccio un'ulteriore annotazione spostandomi temporaneamente dal tema degli strumenti a quello degli attori e qui c'è un altro dato che più o meno esplicitamente viene toccato in molte parti del volume cioè in realtà c'è una dinamica politica di politics si direbbe del welfare fiscale che vede un'articolazione anche nuova di gruppi di interesse decisori politici partiti e altri attori ulteriori e in questo caso come dire spesso viene richiamato una sorta di parallelo con la realtà nordamericana in particolar modo degli Stati Uniti e del welfare americano che per caratteristiche congenite direi trova effettivamente come dire un forte spazio un ampio spazio a favore del welfare fiscale con effetti redistributivi che spesso sono appunto di tipo regressivo la domanda la domanda che però pongo ai curatori ma in generale alla platea di oggi è questo parallelismo come dire tiene fino in fondo sia riguardo a come viene concepito il welfare fiscale sia come viene realizzato e con quali conseguenze di carattere istituzionale e redistributivo oppure assume delle caratteristiche tipicamente italiane che si legano tra gli altri anche alla caratteristica stessa dei gruppi di interesse degli attori economici che spesso in molte parti del volume vengono in qualche modo aditati come i promotori del welfare fiscale cioè in primo luogo le imprese e le organizzazioni di rappresentanza delle stesse e verrebbe il dubbio che in realtà alla fine seppure oggetto di un disegno che non è necessariamente caotico in realtà il welfare fiscale per come viene concepito in Italia e per come viene realizzato in Italia determini effettivamente non dico una navigazione senza rotta ma degli effetti che sono sicuramente subottimali non solo in termini di redistribuzione della ricchezza quindi la funzione propria del welfare state ma anche in termini di definizione dei profili diciamo così del modello di capitalismo italiano e cioè che in qualche modo questo welfare fiscale che pure si sviluppa e cresce in molte realtà anche al di là del contesto italiano nel caso specifico direi della politico l'economia italiana assume un carattere particolarmente preoccupante perché si concretizza in una sorta di frammentazione progressiva degli interventi che in qualche modo non è che perdano diciamo così una loro ambizione di disegno complessivo ma sembrano essere al servizio di un disegno non propriamente efficace se l'obiettivo come dire sia del decisore politico che dei promotori o comunque dei gruppi di interesse che si fanno promotori del welfare sia quello di un sistema di political economy più efficiente più efficace capace di garantire tassi di crescita di sviluppo e anche di redistribuzione più significativo sembra invece essere in qualche modo il risultato di un disegno molto particolaristico in cui il particolarismo si misura in termini di come dire un disegno molto sottotraccia anche di riforma del modello di capitalismo italiano che garantisce una serie di rendite ma perde la capacità di immaginare un futuro caratterizzato da maggiori tassi di crescita o maggiore capacità di innovazione sviluppo economico aumento della produttività che sappiamo essere tutti punti dolenti diciamo così del modello italiano sembra quindi essere il welfare fiscale parte integrante ma è come dire un'affermazione che sottopongo al vostro giudizio al vostro ulteriore verifica essere in realtà parte integrante di un circolo vizioso in cui questa innovazione non è al servizio di un miglioramento del funzionamento della politica di economia italiana quanto piuttosto un affossamento ulteriore delle capacità di innovazione del sistema di welfare più in generale del sistema economico e produttivo un ulteriore riferimento e qui torno in realtà alla dimensione degli strumenti di policy e riprendo direi in particolar modo il contributo di Theodor Lowy un altro dei nostri sacri citati più volte nell'ambito del volume il fatto che in realtà questa pubblicazione sembra confermare che un altro autore Paul Pearson su cui siamo un po' cresciuti tutti quanti che molti anni fa parlava di The New Politics of Welfare facendo riferimento alla politica del welfare in epoca di austerità come caratterizzata dalla famosa blame avoidance quindi evitare il biasimo del corpo elettorale e in generale diciamo così dei cittadini rispetto a politiche restrittive o sottrattive della spesa sociale ebbene sembra che questa impostazione della New Politics di cui parlava Paul Pearson sia almeno in parte da rivedere e sia da rivedere perché come dimostra direi ampiamente il volume in molte parti in realtà non solo non siamo costretti o i nostri decisori politici non sono costretti in un'epoca di mera austerità quanto piuttosto sono capaci i nostri stessi decisori politici di inventarsi politiche distributive anche quando le risorse apparentemente non ci sono e da questo punto di vista quindi qui come dire assumendo in toto diciamo l'impostazione della scienza politica viene in mente che in realtà questa politics del welfare in Italia e non solo in Italia quella legata soprattutto allo sviluppo del welfare fiscale non sia solo una New Politics come era intesa qualche decennio fa da Paul Pearson ma sia in realtà una vecchia politica una politica distributiva si usa il termine micro distributiva nell'ambito del volume e che ricalca molte delle caratteristiche tipiche appunto di quella che Theodor Lowy ed altri con lui chiamavano la client politics cioè una politica in cui di nuovo piccoli gruppi non grandi organizzazioni di rappresentanza di interesse ma piccoli gruppi hanno come dire come propria priorità quella di identificare la necessità di assumere per quanto possibile delle risorse del bilancio pubblico di accedere a molte di queste risorse seppure con strumenti nuovi rispetto al passato non più politica di spesa vera e propria quanto appunto di agevolazione fiscale che direi qui c'è uno degli aspetti più innovativi e anche convincenti del libro dimostra essere uno strumento di politica appunto distributiva quella dell'agevolazione fiscale la migliore possibile a vantaggio da un lato di clientele politiche e dall'altro degli stessi decisori politici che vogliano aumentare il credito politico e non tanto diminuire il biasio e qui direi che appunto si dimostra che siamo in una fase distributiva una distribuzione che però ha caratteristiche coerenti con un altro contributo della letteratura a quello di Pepper Cool Pepper che identifica appunto nella quiet politics la caratteristica dominante diciamo così della politica contemporanea anche nell'ambito della distribuzione di risorse attraverso le politiche di wealth e qui però si pone di nuovo un quesito se appunto questa politica distributiva non ci porti verso le stesse conseguenze della politica distributiva di vecchia data che ha di fatto diciamo scombinato gli equilibri finanziari del nostro bilancio pubblico determinato diciamo tutti quei presupposti per l'espansione del debito pubblico per un deficit senza controllo che in qualche modo se uno fa riferimento appunto all'ultimo periodo storico individuato dai curatori e da molti degli autori del libro cioè quello che va dal 2012 2013 ad oggi vede in effetti un'espansione della spesa pubblica e vi verrebbe da dire ovviamente determinata anche dal contesto macroeconomico generale però anche un'estensione sia del debito pubblico che del deficit si verrebbe quindi anche in questo caso una politica vecchia che riporta in qualche modo come una sorta di gioco dell'oca al punto di partenza cioè siamo di nuovo in una situazione di alto debito pubblico di alto deficit con una sostenibilità finanziaria dei conti dello Stato tutta da rafforzare da dimostrare nel prossimo futuro con effetti redistributivi fortemente regressivi come dire apparentemente non appare un grande progresso dopo 30 anni di grandi riforme che avrebbero dovuto determinare una forte ricalibratura del welfare italiano ultimo punto e poi lascio la parola agli altri commentatori gli altri discussant faccio riferimento appunto agli aspetti più propriamente di policy analysis diciamo così che sono presenti direi misura significativa nell'ambito del volume allora direi due riflessioni la prima riguarda la difficoltà di gestire questi strumenti che apparentemente appaiono molto semplici ma in realtà sono estremamente complessi la semplicità da un lato mi sembra che nasconda un aspetto che forse come dire potrà essere ulteriormente sviluppato nel prossimo futuro magari dagli stessi autori e curatori del libro cioè il fatto che l'enfasi sulle agevolazioni fiscali sul welfare fiscale trova due giustificazioni ben chiarite nell'ambito del libro quelle dal lato della domanda e quelle dal lato dell'offerta politica cioè sono facili da gestire come politiche distributive da parte del decisore politico e per questo si spinge diciamo così l'utilizzo del welfare fiscale dall'altro sono facilmente catturabili da parte di clientele più o meno ampie o vaste nell'ambito del corpo elettorale delle costituenze che popolano il sistema politico italiano e quindi c'è anche in questo caso un incentivo a spostarsi verso le agevolazioni fiscali hanno le caratteristiche tipiche che sappiamo di opacità che vengono più volte riprese nel libro e che garantiscono appunto una mancanza di trasparenza degli effetti ridistributivi derivanti dalle stesse politiche e quindi anche questo è un incentivo sia dal lato della domanda che è dal lato dell'offerta direi che c'è un ulteriore incentivo che in qualche modo può essere indicato cioè un incentivo di carattere meramente amministrativo cioè sviluppare la spesa il cosiddetto tax spending permette in realtà di sollevare molta della pubblica amministrazione italiana da un problema enorme che è quello di specializzarsi in attività produzione di servizi direi soprattutto ma anche trasferimento di risorse che storicamente sono mancate nell'ambito del welfare italiano e che sono molto complicati da gestire meglio usare la leva dell'agevolazione fiscale perché questo solleva la pubblica amministrazione da molte delle sfide contemporane questo apparente semplicità che quindi contribuisce diciamo così al successo di questo nuovo strumento di policy però dall'altro nasconde una complessità enorme che è quella che viene riconosciuta dagli stessi curatori del volume dagli stessi contributor quando si fa riferimento agli effetti distributivi e più in generale all'efficacia degli interventi e qui c'è un'ultima domanda che pongo agli autori ovvero come si fa a individuare diciamo così se pensino loro stessi se pensano che sia possibile individuare una strategia valutativa diciamo così degli strumenti di welfare fiscale che ci permetta di individuare strumenti utili almeno parzialmente efficaci con effetti redistributivi non propriamente regressivi da altri che invece assommano diciamo così caratteristiche di regressività di inefficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche ed inefficacia nella protezione contro i principali rischi sociali e da questo punto di vista mi sembra che se il tono generale diciamo così del volume seppure tono laico agnostico per certi versi finisce con l'essere un tono sostanzialmente direi abbastanza pessimista rispetto alla capacità del welfare fiscale di risolvere i problemi del welfare di questo paese dall'altro uno degli aspetti più interessanti mi sembra essere quello proprio di una diversificazione ci sono tanti welfare fiscali che riguardano tante politiche non tutti probabilmente da buttare e qui però rimane appunto un quesito come si valutano questi strumenti quali sono da buttare quali invece magari da modificare piuttosto che da rigettare in toto e qui uno degli aspetti più rilevanti mi sembra il doppio riferimento a due politiche per certi versi agli antipodi nell'ambito del welfare italiano le politiche per la famiglia da un lato e le politiche pensionistiche dall'altro nell'ultimo caso quelle delle politiche pensionistiche devo dire la verità po' da chi ha bazzicato per un po' di anni le politiche previdenziali in Italia mi sembra che la ricostruzione di Matteo di Michele Raitano e degli altri sia come dire inappuntabile e difficilmente controvertibile cioè gli effetti del welfare fiscale che pure non così sviluppato nell'ambito della previdenza diciamo nell'ambito previdenziale o pensionistico non ha prodotto un po' di effetti sperati non ha prodotto una grande copertura diciamo della popolazione attiva ha effetti chiaramente redistributivi di tipo regressivo chi ha bisogno di un'integrazione della previdenza pubblica non ce l'ha e ha nel frattempo anche una previdenza pubblica che scade in termini di qualità e di capacità di protezione contro il rischio di vecchiaia mentre chi ha una buona protezione pubblica riesce anche ad integrarla ulteriormente con la previdenza integrativa insomma siamo riusciti nel gioco perfetto spendiamo molti soldi copriamo poco chi ha bisogno di essere coperto copriamo tanto chi in realtà non avrebbe bisogno di tante agevolazioni fiscali dall'altro invece e questo probabilmente una delle novità del libro si vede che nelle politiche familiari come dire qualcosa si ottiene dal sistema di welfare di tax spending e di welfare fiscale perché è un settore sottosviluppato tradizionalmente del welfare italiano e alla fine anche gli effetti ridistributivi non sembrano così negativi anzi sono effetti sostanzialmente progressivi allora domando appunto ai curatori in generale agli autori del libro se non sia in caso magari per il prossimo volume di individuare delle griglie interpretative che permettano di valutare per così dire quali e quando in quali occasioni il welfare fiscale possa essere uno strumento utile per migliorare l'efficacia l'efficienza e l'equità dell'intervento nell'ambito delle politiche sociali di questo paese e quando invece si debba probabilmente avere la onesta intellettuale di dire che il welfare fiscale non è uno strumento utile per migliorare il nostro welfare che pure ha bisogno di essere fortemente ricalibrato spero di non aver abusato troppo del mio tempo e ringrazio ancora Matteo Emanuele e tutti gli autori perché è un libro molto bello facile da leggere si legge tutto gonfiato e che soprattutto aiuta ad aprire gli occhi sulla realtà del welfare in Italia grazie davvero Gabriele ha il microfono spento ecco qua grazie a te davide per questa eccellente analisi e questa e questa ricostruzione e soprattutto per le domande e le asserzioni motivate è stato una una glossa al libro di Matteo Emanuele diamo ora la parola al professore Ernesto Maria Ruffini una breve presentazione dopo dieci più di dieci anni trascorsi a fare l'avvocato nel settore di diritto tributario come allievo del professore Augusto Pantozzi che è stato uno dei maestri della riforma tributaria del diritto tributario Ernesto Maria viene chiamato a fare a svolgere un ruolo che io credo che nessuno di noi nemmeno se fossi costretto a essere sorteggiato in una in una all'interno di una boccia metterebbe il proprio nome paese ha poca memoria purtroppo il nostro mi riferisco al fatto che Ernesto Maria nel 2015 e fino al 2017 diventa viene nominato amministratore delegato di Equitalia ora se c'era qualcosa che era considerato forse peggio di cattivissimo me in quegli anni però ripeto il nostro paese ha scarsa memoria era Equitalia nel momento in cui bisognava citare il personaggio più cattivo ogni cosa si menzionava sempre Equitalia ora Ernesto diventa amministratore delegato di Equitalia e con il suo sorriso e il suo stile fa diventare questo soggetto un soggetto in primo luogo molto molto meno spaventoso di quello che era ma soprattutto lo guida grazie poi anche all'aiuto del professor Nannicini e dell'ora sottosegretario Nannicini a diventare quello che non potevano essere eravamo uno dei pochi paesi al mondo non solo dell'Europa in cui l'accertamento e la riscossione la gestione delle entrate la loro accertamento e la loro riscossione ordinaria erano separate invece dalla riscossione equattiva e quindi così facendo creando asimmetrie informative esternalità negative pazzesche e a quel punto nel momento in cui Equitalia viene chiusa di fatto succede ad Equitalia l'agenzia della riscossione l'agenzia delle entrate della riscossione quindi finalmente conformemente a standard europei l'agenzia della riscossione entra tutti i titoli all'interno dell'agenzia delle entrate e quindi finalmente dopo tantissimo tempo entrate e gestione ordinaria delle entrate e riscossione equattiva si riappacificano e ridivengono una cosa sola da lì in poi Ernesto rimane sostanzialmente direttore dell'agenzia delle entrate fino ad oggi salvo un breve intervallo e soprattutto e qua cedo la parola in questo ultimo anno ho pubblicato un libro intitolato uguali per costituzione storia di utopia che credo compendi bene il suo stile umano e professionale la ragione è molto semplice è che raramente vedrete e vedete avete visto Ernesto Maria in televisione rilasciare interviste parlare a vanvera o non a vanvera Ernesto fa col suo stile e quindi il sottotitolo di quel libro storia di un'utopia in realtà dimostra che lui un'utopia e come piace ricordare quando parliamo insieme di un celebre saggio di dossetti relativo alle sentinelle nella notte la vive e cerca di renderla quotidianamente fatto carne servizio nei confronti dei cittadini e in questo caso dei cittadini contribuenti quindi lascio la parola con grande onore e con grande piacere al professor Ruffini per le sue considerazioni grazie non so se devo aspettare che parli il professor Ruffini non essendo io professore mi taccio come dici tu e aspetto che parli il professor Ruffini non mi hai identificato ma a di là di questo perché tanto senza nulla togliere ai professori che sono con noi diciamo ogni tanto il titolo viene attribuito così per più per simpatia amicizia caffè pagato per il professor Bottino perché diciamo hai usato parole che in troppo gentili nei miei confronti e ovviamente meritate ma l'amicizia diciamo ha avuto la meglio ed è prevalza su una obiettiva presentazione tanto grazie dell'invito a questo confronto occupato a questa chiarata sul libro che ho trovato un libro straordinariamente ricco e visto che prima si diceva sulla rarità di un'opera collettanea io invece credo proprio che la sua straordinarietà derivi proprio dalla ricchezza che si può percepire per la capacità degli autori di autocontenersi per far sì che tutti potessero contribuire a renderlo ricco di riferimenti e di secondo un filologico che si può seguire e quindi è un libro diciamo piacevole da tenere in libreria quindi ringrazio per avermelo fatto conoscere e leggere dice io non mi soffermerò molto perché siete tutti più preparati di me nell'analisi che avete fatto nella redazione di queste pagine quello che mi è rimasto al di là di qualche accenno come lo diceva prima diverse citazioni era più diciamo divertente quella di Vanoni sulla esenziera non si nega nessuno che è un po' di bandiera italiana diceva lunganesi mi ha sempre ricordato la citazione di Vanoni un'esenzione non si nega a nessuno è un po' parente del tengo famiglia detto questo al di là delle battute la domanda che mi è rimasta appesa rivolgo a voi e quelli che interverranno dopo è se il sistema di welfare è corretto che abbia un'aggettivazione fiscale ovvero se la leva fiscale possa essere una leva di welfare che è un po' la domanda che attraversa le pagine di questo libro e alla quale io ho una mia risposta ma una risposta personalissima cioè io credo che il sistema delle tax expenditures e quindi delle spese fiscali che ammontano a cifre obiettivamente rilevanti per il bilancio pubblico la stima per quest'anno supera gli 80 miliardi e per le persone fisiche quasi 50 miliardi di spese 47 48 sono tutte figlie dell'incapacità del nostro sistema di fare un sistema tributario equo progressivo e redistributivo in senso pieno perché tax expenditures altro non sono che dei tentativi di correggere l'incapacità del sistema pubblico di andare incontro alle esigenze dei suoi cittadini o almeno io così ho sempre creduto e quindi sono tutti quanti interventi passati in un termine a toppa per cercare di fare in modo che dove non siamo arrivati in positivo arriviamo in negativo cioè ti togliamo il peso che noi stessi dimettiamo perché non siamo stati capaci di togliertelo secondo un sistema positivo e quindi sia esso sanitario o distruzione o che so io ma è evidente che un sistema fiscale perfetto non esiste ma questo lo dovremmo fare tutti quanti ma insomma migliore di quello che esiste nel nostro paese ci dovrebbe consentire di poter rivedere in modo straordinariamente profondo il sistema di età sospendita perché un sistema fiscale che possa innanzitutto prevedere la capacità dello Stato di incassare tutte le seconde dovute e questo è un tema di fondo per creazione fiscale per quanto si stia riducendo per quando l'amministrazione finanziaria abbia recuperato dato reso la settimana scorsa diversi miliardi da rimettere a disposizione alle casse dello Stato e quindi anche alla spesa sociale per quanto l'evasione fiscale sia tempo per tempo ridotta negli ultimi anni anche grazie a tutti quanti gli interventi sta di fatto che il buco di entrata che deriva dalle evasioni fiscali impedisce politiche di welfare positive e non di detrazioni fiscali edilizia residenziale pubblica sistemi sanitari pubblici istruzione pubblica per fare tutto questo servono risorse risorse che sarebbero nelle casse delle rarie potrebbero essere spese a tal fine se il sistema fiscale fosse più capace di funzionare poi c'è il lato complementare cioè bisogna saperle amministrare le risorse e questo però appartiene ad un altro ad un altro libro semmai però ecco il welfare fiscale come il sistema delle spese fiscali che tempo per tempo il legislatore ha sempre trovato il modo di disciplinare a rimedio di un sistema positivo di welfare che non arriva a tutto e ha un sistema fiscale che non riesce ad essere pienamente equo credo che siano semplicemente il termometro del non funzionamento del nostro sistema non è auspicabile un sistema in cui ci siano certe spese fiscali o non ce ne siano altre o bisogna ridisciplinarlo vedere se è le 600 erotte spese che ci sono in questo momento nel nostro sistema sono 626 quelle stimate all'ultimo rapporto 233 per le persone fisiche 77 per le persone anzi di più un'ottantina per le persone giuridiche e poi per tutta una serie di altri enti particolari complessivamente 626 tipologie di spese fiscali che sono ripeto semplicemente tentativi di porre rimedio a un sistema che non funziona il tema è il prossimo libro che si spera per la prossima riforma fiscale come ci si augura vedrà la luce è quella di rivedere sistematicamente funditus proprio tutto questo coacerbo di spese fiscali per far sì che il sistema funzioni diversamente e lo Stato possa avere maggiore risorse a disposizione da mettere a disposizione da investire sul sistema di welfare non da rimettere nelle tasche i cittadini perché si assicuri un welfare personale perché di fatto si tratta di questo e quindi in prospettiva credo che sia il paese moderno e che ritiene che il proprio welfare sia una cifra della nostra storia repubblicana debba riconquistare la capacità di un sistema di welfare positivo e attivo da parte dello Stato e non rimettere in tasca i cittadini una maggiore capacità finanziaria per potersi finanziare loro dove lo Stato non è arrivato voglio lasciarvi soltanto con questa suggestione poi l'altra cosa dicevo se non è un sistema non ricordo più se lo diceva Natali non è un sistema facile per l'amministrazione finanziaria non è un sistema facile per 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 i cittadini che devono andare tipo rapdomanti a cercare di comprendere dove sono stati catalogati per andarsi a prendere al di là lo pezzi queste persone che si hanno molte di loro hanno dipendenti pensionati hanno dichiarazione precompilata che è stata una conquista della nostra attività amministrativa però in generale è un sistema complesso da gestire anche per noi quindi con amministrazione finanziaria quindi almeno per quanto mi riguarda non per il lavoro che faccio in questo momento ma crede che un sistema più auspicabile sia quello anche ai fini della capacità amministrativa del buon andamento dell'amministrazione avere meno di spese fiscali piuttosto 627 spese fiscali da disciplinare controllare inserire nel modello dichiarativo da inserire nel modello di istruzioni dichiarative qui se parlavano negli anni 50 la riforma la prima riforma che fu fatta con l'introduzione della dedicazione dell'edito applicatorio aveva sostanzialmente un fascicoletto accompagnatorio al modello dichiarativo che erano le istruzioni in qualche modo di 16 pagine ora siamo a oltre 400 pagine di istruzioni ma non per progressità o incapacità dell'amministrazione finanziaria perché devono commentare 626 spese fiscali allora è un sistema ferraginoso che si ottiene il risultato di consentire al contribuente di avere qualche capacità finanziaria un sistema auspicabile è quello che sia lo Stato ad avere la capacità di discuotere le imposte che si è dato e di spenderle a tutela del sistema welfare che ha deciso di avere in questo questo perese mi fermo e complimenti davvero ancora per gli autori per il testo che ci hanno regalato grazie grazie a te Ernesto perché la gestione appunto di 626 spese fiscali con relativi codici e quadri e conoscendo quanto tu abbia fatto e stia facendo per la digitalizzazione dell'agenzia tema carissimo a Cerida comporta che anche la digitalizzazione ha dei limiti in ansia 626 categorie diverse e quindi grazie il cuore anche per questa testimonianza e grazie per il lavoro che svolgi ogni giorno il professor Tommaso Lannicini si è laureato a Firenze in scienze politiche e ha svolto il proprio dottorato di ricerca in un istituto che a noi di Cerida è molto caro perché è l'istituto universitario europeo dove si è adottorato in economia e da lì ha cominciato a viaggiare e non ha più smesso fortunatamente lui stesso dice che è sempre di passaggio perché chi non lo è e è stato visiting scholar al MIT è stato al Fondo Monetario Internazionale ha insegnato a Harvard ha insegnato da Carlos Terzero di Madrid ha vinto nel 2014 unirsi consolidator ed è stato chiamato come professore ordinario economia politica alla Università Bocconi di Milano nel frattempo nel 2016 viene nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri contro le altre la delega al lavoro al fisco e all'università ricordo tre attività e progetti legislativi che soltanto in un anno in cui Tommaso è stato sottosegretario ha realizzato l'anticipo pensionistico oltre a altri interventi in materia di riforma del lavoro per l'appunto la eliminazione la soppressione di Equitalia e la sua transita all'inserno in materia di università ricordo soltanto interventi in materia di diritto allo studio e di dipartimenti di eccellenza e lui il babbo dei dipartimenti di eccellenza gli lascio una parola ricordando e dicendo una cosa lui scrive sempre a un sito internet dove rende ogni giorno pubblico tutto quello che fa e tutte le sue pubblicazioni in open access che oltre a essere professore di economia politica è un membro orgoglioso della Red Sox Nation che come sapete è un gruppo di fondamentalmente di tifosi e sostenitori accanetissimi dei Boston Red Sox ecco se il professor Nannicini ha una capacità è quella che quando imprende la mazza da baseball la palla la colpisce sempre e necessariamente nel centro io questo l'ho imparato da lui e gli cedo la parola con questo debito di riconoscenza a te Tommaso grazie buonasera a tutte e a tutti grazie a Gabriele per l'invito per l'occasione di discutere questo bel volume e per la presentazione che sottolinea inesorabile il tempo che passa e grazie Gabriele per questa retrospettiva io parto da nell'associarmi a quanto hanno detto gli altri discussant ai complimenti ai curatori e agli autori del libro non solo perché si fa sempre così ma insomma non sempre poi sono un economista e noi siamo insomma i più cattivi nelle scienze sociali quindi potrei anche oggi fare il pierino e essere il discussant cattivo non lo sono perché il volume è un volume importante come è stato detto è un volume bello anche da leggere per due motivi uno di merito uno di sostanza perché è un'opera importante che dà un contributo agli studi sullo stato sociale italiano mettendo il pezzettino del welfare fiscale accanto agli altri pezzetti del welfare sociale e del welfare occupazionale e lo fa con un grande precisione partendo dallo sforzo definitorio dalla quantificazione da una quantificazione non è soltanto quel 71 miliardi quel 15% ma è anche una quantificazione settoriale quindi capire l'eterogenità nei diversi settori del welfare e diversi pesi del welfare sociale occupazionale e fiscale è un passo avanti alla nostra conoscenza delle politiche sociali lo fa dandoci un quadro importante non solo del funzionamento del welfare fiscale ma anche delle interazioni con gli altri pezzetti del welfare e con le altre politiche pubbliche dalle politiche del lavoro alle politiche industriali lo fa tenendo sempre insieme come filo rosso di tutti i contributi gli effetti distributivi perversi come è stato ricordato anche dal professor Natali e dall'avvocato Ruffini ma anche agli aspetti di politica d'economy e quindi di analisi delle decisioni politiche dietro quegli strumenti quindi è un contributo importante per la sostanza per il merito ma anche per il metodo perché lo fa con una visione di insieme multidisciplinare che è l'unica che può farci darci un contributo vero a un problema così complesso e che interagisce così intanto con gli altri componenti del welfare e delle politiche pubbliche quindi si dà un volume collettivo e dà uno sforzo di agenda di ricerca multidisciplinare solo da lì può venire un contributo importante come quello di questo volume e fatemi aggiungere è già stato ricordato dagli altri di scassa anche questo è un libro collettivo che si legge bene e dovremmo dare anche maggiore dignità scientifica ai contributi collettivi però la ricetta diciamo per il successo dei volumi collettivi sta nella mano visibile dei curatori e qui è una mano che si percepisce non solo per il coatoraggio estensivo nei sottocapitoli dei due curatori ma perché c'è un piano dell'opera che è un programma di ricerca che permane insomma diciamo che ci sono degli ottimi musicisti nello scrivere vari capitoli ma i due direttori d'orchestra fanno la differenza e fanno fare il salto di qualità a un'opera come questa ora io mi limito adesso a quattro commenti nella duplice resta un po' insomma di non solo di ricercatore ma anche di ex policy makers diciamo anche se ho appeso le scarpe al chiodo da quel punto di vista leggendo questo libro ovviamente ho un sacco di aneddoti e ricostruzioni di alcuni passaggi anche negli ultimi anni anni di politica pubblica che mi sono tornati alla mente ora il primo commento è sul sulla politica del welfare fiscale sulla politica dell'economy del welfare fiscale da un certo punto di vista a una prima lettura sembra quasi non è del tutto così al 100% che le spiegazioni politiche dell'economy del welfare fiscale rientrino un po' è già stato ricordato dal professor Natali in quella la dicotomia tra trasferimenti monetari e servizi che è un po' una delle trappole per dirla con Maurizio Ferrera del welfare del modello di welfare italiano e quindi come dire un'esenzione non si nega a nessuno negli ultimi anni neanche un bonus si nega a nessuno e quindi diciamo che questa tendenza ai bonus e alla monetizzazione dei diritti sembra un po' la faccia della stessa medaglia delle esenzioni o delle trazioni fiscali se volete un altro effetto del fatto che il welfare italiano ma non solo italiano cade spesso nella scocciatoia o nella trappola di politiche distributive non politiche redistributive ma politiche con benefici concentrati e costi diffusi il welfare fiscale è perfetto perché ovviamente i benefici sono concentrati i costi sono diffusi spesso sono sono quasi invisibili o non percettibili politicamente e fatemi aggiungere qui da chi è stato anche nel back office delle politiche pubbliche non c'è solo un termine di non visibilità politica nella discussione pubblica dei costi del welfare fiscale c'è anche un tema di ampia discrezionalità della contabilizzazione dello stesso perché se io penso alle relazioni tecniche di interventi di welfare fiscali sono quelli dove ci sono i maggiori margini di discrezionalità e quindi il gioco di interazione tra politico decisore e burocrate attuatore e lo scambio politico che ci sta che sta nel back office della politica pubblica è massimo perché c'è un'ampia discrezionalità nello nello stimare gli effetti delle spese fiscali quindi spesso ricorre a quello strumento anche in base al tuo capitale politico perché il capitale politico è la moneta che come politico usi per domare la burocrazia pubblica che ti deve stimare quell'effetto se il capitale politico è alto sai che hai maggiori margini per fare una spesa fiscale che avrà una relazione tecnica in cui l'impatto fiscale è minimo se il tuo capitale politico è molto basso sai che vai insomma passerai in una valle di lacrime in cui qualsiasi proposta di spesa fiscale avrà un impatto molto stimato molto alto quindi questo è un altro elemento da tenere presente nel perché poi la politica fa ricorso a questi strumenti però in generale io ne cito altri tre uno è una forte miopia politica e questo come dire sta dietro le spese fiscali ma sta dietro anche i bonus in Italia c'è un orizzonte della politica che è molto corto per fragilità istituzionali per frammentazione o instabilità del sistema partitico per tutta una serie di concause strutturali per cui a cui si aggiunge non ultima anche una scarsa propensione alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche una scarsa cultura della valutazione del monitoraggio delle politiche pubbliche per cui l'effetto annuncio prevale sempre sull'effetto risultato per un politico conta più annunciare una nuova politica pubblica che i risultati della politica pubblica che fa questo anche per una perdita di credibilità di quei corpi intermedi università stessa ma mezzi di comunicazione sindacati e altre forme di rappresentanza una perdita di autorevolezza in una discussione pubblica di quei corpi intermedi che dovrebbero certificare la qualità e i risultati delle politiche pubbliche quindi per tutta una serie di concause istituzionali politiche in Italia l'effetto annuncio è molto più importante dell'effetto risultato e quindi cosa di meglio che annunciare un nuovo bonus o una nuova detrazione fiscale quando nessuno poi ne monitorerà i risultati il secondo elemento per cui un politico ricorre spesso a questi strumenti e qui passiamo sempre a una distorsione ma una distorsione se volete più benevola è quello di una sfiducia antistatalista cioè una sfiducia diffusa nella capacità della nostra macchina pubblica di dare risposte forti e della stessa qualità su tutto il territorio nazionale per cui o al fatto che avere un investimento forte su servizi di qualità su tutto il territorio nazionale richieda tempi di attuazione troppo lunghi rispetto all'orizzonte della politica per cui si ricorre spesso alla scorciatoia dei trasforimenti monetari o delle spese fiscali questo dico se vogliamo togliere dalla testa di un politico questa scorciatoia delle spese fiscali o dei bonus dobbiamo anche fare una riforma della pubblica amministrazione che non guardi solo ai costi o ai tagli o al turnover ma guardi a come i processi della macchina pubblica creano valore per la società per i cittadini o per i cittadini quindi abbiamo bisogno di una riforma della macchina pubblica abbiamo bisogno dal mio punto di vista anche di una riforma del titolo quinto specialmente su alcuni ambiti del welfare e dello stato sociale perché se al politico non togli quella cosa di questa frammentazione dei servizi o delle o del welfare sociale del pilastro forte dello stato sociale ovviamente non gli togli dalla testa la scorciatoia dei bonus o delle spese fiscali pensate agli asili insomma pensiamo tutti al PNRR l'investimento in asili ma chi è stato a fare una legge di bilancio sa che ogni legge di bilancio ha 300-400 milioni di fondi asili perché l'annuncio che deve essere fatto in ogni legge di bilancio è che faremo gli asili creeremo i servizi su tutto il territorio poi questi soldi magicamente spariscono in mille rivoli delle spese regionali e non c'è nessun ritorno in termini di qualità e neanche di quantità dei servizi il terzo punto per cui un politico ricorre con facilità a bonus spese fiscali dopo la miopia e la sfiducia antistatalista è la cattura degli interessi anche qui si percepisce molti contributi del libro ovviamente poi è una slavina dopo che è creato questi interventi ci sono interessi che si legano a queste politiche e che ne chiedono o il mantenimento o l'espansione e questo a me sembra che abbia portato negli ultimi anni anche a una polarizzazione del welfare privato nel nostro paese perché da una parte quando ricordiamo al privato o al privato sociale al terzo settore lo facciamo in maniera distorsiva rispetto alle potenzialità del terzo settore di creare un welfare di comunità perché viviamo il terzo settore un po' come un'agenzia interinale a basso costo verso cui esternalizzare servizi pubblici che non vogliamo o non sappiamo più finanziare come Stato e come enti territoriali quindi da una parte il terzo settore è una valvola di sfogo in cui si genera lavoro povero nel terzo settore per via di bandi e convenzioni che esternalizzano servizi con un costo del lavoro appunto al di sotto spesso della soglia di povertà o che non copre i servizi generali di struttura delle organizzazioni del terzo settore dall'altra parte invece abbiamo un privato spesso for profit ma non solo più di qualità che cattura alcune politiche spesso alcune politiche di welfare spinto da da spese da spese fiscali quindi miopia politica sfiducia antistatalista cattura degli interessi sono spesso dinamiche che spiegano perché queste politiche veniscono per emergere e sono politiche che possono creare degli effetti distorsivi e qui chiudo citando gli altri elementi di riflessione che mi sono venuti leggendovi ma che in parte si riallacciano anche alle domande di chi mi ha preceduto insomma per dirla con Verdone questo welfare fiscale ci serve o non ci serve e queste distorsioni sono così forti dal fatto che dobbiamo toglierlo dagli strumenti che abbiamo o possiamo dentro una visione insieme usarlo con maggiore lungimiranza di come abbiamo fatto finora io provendo più per la seconda forse anche influenzato devo dire però questo gli autori magari vedranno se la mia lettura è distorta influenzato dall'analisi di questo libro penso che ci sia uno spazio per ricondurlo dentro un modello di di stato sociale che usa anche questi strumenti ma li usa in maniera meno distorsiva perché per chiudere sulle distorsioni è chiaro che dai contributi del libro si capisce che le disuguaglianze le tregi delle disuguaglianze della nostra struttura sociale di genere generazionali e geografiche non sono scalfite dagli strumenti di welfare fiscale ma spesso sono aggravate d'altronde è insito nello strumento stesso il fatto che si rischia di andare incontro a effetti distributivi per fersi perché lo strumento della spesa fiscale presuppone una capacità autonoma di spesa degli individui e delle famiglie non solo in termini di anticipo di spesa ma anche di capacità di orientarmi individualmente rispetto alla spesa che deve soddisfare i miei bisogni e una capienza fiscale e quindi un reddito che è una capienza fiscale sufficiente questi due elementi già di per sé fanno pensare che lo strumento delle spese fiscali sia porti a distribuzioni a effetti redistributivi per fersi però se mi fate vestire un attimo rimettere un attimo il cappello del policymaker che a volte ha partecipato diciamo o anche spirito politiche di welfare fiscale è che ogni tanto ti illudi che si possano formare delle avanguardie che utilizzano questi strumenti e che poi creano un effetto a cascata una sorta di effetto valanga per cui la prima incentivazione anche se va a ceti medio-alti può essere può fare da apripista rispetto alla soddisfazione di nuovi bisogni che non sono coperti pensiamo alla non autosufficienza o altri nuovi bisogni che emergono questa è anche un'analisi che si trova in molti contributi del libro il fatto che spesso i fiscali sono una cosa più semplice per provare a dare risposta a nuovi bisogni nell'ansia di farlo senza avere gli strumenti forti per farlo l'altro elemento è che spesso questi effetti distributivi perversi hanno altre finalità lo dite bene spesso il welfare fiscale è solo uno strumento per sviluppare il welfare occupazionale di più a volte il welfare occupazionale che viene sviluppato attraverso strumenti di welfare fiscale è esso stesso uno strumento se io penso agli interventi che abbiamo fatto a Palazzo Chigi sul welfare aziendale nella contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale in quel disegno di policy erano tutti strumenti per incentivare una contrattazione cooperativa e quindi incentivare una struttura di relazioni industriali che sfuggisse solo dal gioco a somma pari e trovasse degli strumenti di contrattazione cooperativa che permettesse scambi positivi tra aumenti di produttività e soddisfacimento di richieste delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori ovviamente anche qui creando degli elementi distributivi perversi perché la contrattazione di secondo livello non è diffusa e copre solo diciamo una parte privilegiata del mondo del lavoro e del nostro sistema di relazioni industriali quindi dico questo solo per dire che gli effetti distributivi perversi che sono in parte insite nello strumento non sono non noti a chi prende quelle decisioni è che spesso ci si illude che possono essere compensati o controllati o possono essere sacrificati in una prima fase poi purtroppo in politica le seconde fasi non non avvengono mai in una prima fase in cui si dà priorità a uno strumento di policy e poi si correggeranno gli effetti distributivi con altri con altri strumenti quindi scusate se mi sono dilungato sugli effetti distributivi ma sono un cruccio per chi ha partecipato ovviamente ad alcune delle politiche che si sono analizzate in alcuni capitoli e tuttavia la mia quello che mi porto a casa da questa analisi forse con un po' troppo ottimismo della volontà o con un accesso di illuminismo che anche grazie ad analisi ampie e come quelle contenute in questo libro sì non si può salvare il bambino buttando via l'acqua sporca quindi correggere gli effetti distributivi perversi mantenendo alcuni strumenti di welfare fiscali dentro un disegno complessivo di ripensamento del nostro stato sociale a patto che si sia molto attenti nel capirne le interazioni tra i diversi livelli di welfare ci siano analisi forte e discusse pubblicamente sugli effetti distributivi di questi strumenti e finanziari di questi strumenti di welfare e a patto che si correggano quelle distorsioni politiche di cui accennavo prima e che sono discusse nel libro perché se non togliamo quelle discussioni politiche ovviamente possiamo fare tutti i ridisegni ottimali delle spese fiscali ma nessun decisore politico razionale le farà mai perché se no non gli conviene parteciperà a un convegno dicendo che questo è un bel libro ma non lo metterà mai in pratica grazie ancora grazie 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 al professor Nannicini per le sue parole che come ho detto sono sempre precise come come un un fuoricampo un fuoricampo che però va esattamente nel punto in cui deve andare il il format di Book Forum Ceridap prevede l'attenzione ai giovani ed è per questo che do la parola alla dottoressa Chiara Rodi Rizzini che è a sinistra di ricerca in scienza politica presso il nostro dipartimento e quindi per svolgere un breve intervento sul sul libro anch'essere grazie grazie anche io mi unisco ringraziamenti agli apprezzamenti per il volume a cui aggiungo un ultimo pregio che è quello di avere un alto valore scientifico ma anche di essere molto chiaro e rendere molta chiarezza sul fenomeno anche per chi diciamo ha meno esperienza su questo campo vado dritto e concentrerò il mio intervento sul tema delle politiche abitative e quindi l'applicazione delle welfare fiscali su questo settore che al momento è di diciamo di grande attualità in parte per tutto il dibattito che si sta facendo sui bonus in parte per l'aumento dell'emergenza abitativa legata poi anche all'incremento delle spese energetiche per dirne una delle tante e allora il primo tema è quello che come voi sottolineate il welfare fiscale nel settore abitativo ha diciamo la distorsione in un certo senso di privilegiare le persone diciamo più ricche della popolazione per cui per beneficiarne bisogna anzitutto possedere un'abitazione questa è una prima distorsione ma noi sappiamo che in realtà una grossa parte del nostro bisogno è quello di aumentare le abitazioni in affitto e soprattutto la sostenibilità degli affitti e questo perché sappiamo che vivere in affitto è un fattore di vulnerabilità il tasso di povertà assoluta perché le famiglie che vivono in affitto è quattro volte più alto rispetto che quello delle famiglie in proprietà e anche perché la domanda abitativa sta cambiando soprattutto per le nuove generazioni che sono più mobili e che sono quasi più interessate a disporre di un bene in realtà piuttosto che possederlo il problema però è come si cambia come si inverte un po' questa tendenza nel momento in cui c'è una path dependency quindi un legame un sentiero così fortemente tracciato nel senso che noi sappiamo che quasi tutta la spesa come voi sottolineate in politica abitativa è veicolata tramite misure di welfare fiscale per cui almeno nel breve periodo non è possibile invertire questa rotta nel momento in cui poi comunque costruire restrutturare mantenere alloggi pubblici è così costoso e poi c'è anche il tema dell'advocacy quindi nel momento in cui il 70% circa delle famiglie proprietarie di un'abitazione e nel momento in cui le varie agevolazioni e le trazioni sono state utilizzate anche come veicolo di consenso elettorale invertire questa rotta può essere anche strategicamente politicamente difficile da promuovere questo apre anche un po' un tema relativo a quali sono le soluzioni quindi maggiore intervento pubblico come erogazione diretta di contributi o come maggiore alloggi pubblici ma anche forse come una maggiore regolamentazione cioè la casa è stata in questi anni fortemente derregolamentata tutto il mercato abitativo l'ultima diciamo fenomeno che ha ulteriormente così inasperito il problema è quello degli alloggi a breve termine delle piattaforme che sono ulteriormente sottratte a forme di regolazione ma che hanno ulteriori distorsioni nel momento in cui determinano un ulteriore innalzamento dei prezzi o una sottrazione degli alloggi per i residenti c'è poi l'ultimo tema che è quello dei bonus quindi di cui si parla nel volume bonus per dirla semplice e di cui si sta parlando molto anche in questi giorni e quello che è evidente per quanto non abbiamo poi dati così diciamo precisi ancora è quello che pongono un problema di non take up quindi sostanzialmente c'è innanzitutto un problema di agency per cui serve accompagnare i potenziali beneficiari perché comunque fare domanda raccogliere le documentazioni cercare i professionisti è complicato quindi persone meno istruite o più povere fanno fatica ma anche perché comunque diciamo lo Stato può arrivare fino lì ovviamente può decidere se come ristrutturare di casa e poi c'è anche il problema che appunto escludono i più poveri quindi chi non ha un'abitazione ovviamente non può beneficiarne e quindi l'altro tema è se noi consideriamo tutte queste detrazioni fiscali anche come uno strumento di welfare e quindi le possiamo effettivamente tutte queste forme di efficientamento soprattutto energetico considerare strumenti di welfare perché comunque vivere in un'abitazione efficiente ci consente di risparmiare quindi di utilizzare risorse ad esempio nell'istruzione sul campo alimentare eccetera ma dall'altra parte anche perché migliora ad esempio la qualità della salute quindi se noi consideriamo anche la prospettiva diciamo ambientale all'interno della cornice delle politiche abitative del welfare fiscale mi chiedo se questo può effettivamente costituire un fattore che può rimodulare gli interessi e quindi essere una spinta virtuosa per mettere un po' in discussione questo setto squilibrato che abbiamo oppure se può essere invece un'ulteriore complicazione voi spiegate bene nel volume come un altro dei problemi della casa è che si interseca ad esempio con lo sviluppo economico l'andamento del mercato del lavoro le strategie familiari eccetera quindi aggiungere anche questa dimensione legata più all'ambiente e quindi ai bonus diciamo nello specifico di efficientamento energetico può costituire un elemento di ulteriore complessità e diciamo oppure anche invece di incentivo un po' a ridistribuire e rimodulare questo sistema quindi questo è in estrema sintesi un po' le riflessioni che mi sono venute e vi ringrazio ancora per l'occasione di oggi e per il volume grazie 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 a te Chiara proprio perché il riferimento anche alle politiche abitative fa comprendere quanto la sfera del welfare sociale e del welfare fiscale possa essere estesa anche come dicevano gli scassanti ad nutum a piacimento anche a ausum fini altra tradizione del book forum Ceridap prima di lasciare in conclusione la parola agli autori è ascoltare le domande dal pubblico che in questo caso è presente sia nell'aula con la professoressa Galetta con i suoi studenti sia anche online che ci ascolta e lo ringraziamo live e quindi Matteo Palma può darci atto di queste domande grazie Gabriele c'è una domanda di uno studente presente in aula che quindi adesso verrà qua e farà la domanda prego buonasera a tutti e grazie mille per gli interventi che diciamo nonostante la difficoltà della materia ecco comunque noi studenti possiamo abbiamo potuto capire tutti a grandi linee comunque la domanda è questa mi sono sempre interrogato da ecco nuovo elettore possiamo dirla così stimolato anche da una lettura che ha fatto diciamo personalmente il professor Ricolfi dove appunto in questo caso faceva riferimento al reddito di cittadinanza quindi effettivamente come questo strumento che in realtà è più di welfare assistenziale abbia in qualche modo dato la possibilità sia ai percettori che diciamo ai cittadini in questo caso di ecco in qualche modo rimanere nella propria zona di comfort ok quindi diciamo con tutte le difficoltà che ci sono state in seguito a questa riforma e quindi all'inserimento del reddito di cittadinanza in Italia e quindi la mia domanda era diciamo anche personale stimolata da riflessioni anche in famiglia banalmente e di come effettivamente possa essere stato un cioè se ci può essere un superamento comunque una possibilità da parte di questi percettori di aumentare la propria capacità contributiva e quindi anche di effettivamente se ci può essere un superamento di questo strumento di come può inserirsi in un sistema di welfare visto che diciamo è molto anacquato dal dibattito politico e insomma spero che la domanda si sia capita e non ecco non volevo farmi sfuggire l'occasione di chiederlo a persone competenti grazie mille è nel senso che diciamo per ricordo qualcosa intendo la galanellina intendo che comunque cioè il sistema dei navigator non è proprio andato come si era sviluppato all'inizio quindi diciamo come l'inserimento del mondo del lavoro e tutto il resto grazie mille Matteo 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 se ci sono no professore non ce ne sono per il momento stiamo aspettando se in aula ce ne sono altre ma per il momento in chat non c'è nulla va bene e allora direi di dare la parola dunque poi c'è Giulia ma lei vuole intervenire dopo aver sentito gli autori quindi magari se poi volete dire qualcosa dopo aver sentito gli autori io a questo punto lascerei quindi la parola chi è che vuole cominciare Emanuele Pavolini inizia Matteo ok dice che inizi tu va bene tu sei qua no non mi sottraggo allora intanto ringrazio Gabriele Diana Orania e Tommaso per i commenti Chiara Rodirizzini Ernesto Maria Ruffini insomma tutti quelli che sono intervenuti in questo lungo percorso di discussione sul libro veramente e Davide Natali che adesso non lo vedevo quindi me lo stavo dimenticando poi siamo amici per cui non se la prenderà no davvero grazie perché in realtà è stata una lunga come dire un lungo ripercorrere le varie i vari contributi del volume e come è stato giustamente richiamato da alcuni dei discussant prima di tutto il ringraziamento va non solo a chi ci ha invitato oggi ma è Emanuele che è stato la spinta dietro dietro questo volume perché non lo conosce Emanuele ha trovato la soluzione trasformando i giorni in 48 ore e quindi beato lui ancora ci interroghiamo e poi devo dire questo però invece è doveroso ma ancora più doveroso rispetto al co-editor cioè il ringraziamento agli autori perché come ha rilevato ha rilevato molti dei discussant questo non è una curatela di pezzi messi assieme ma è una curatela che è stata costruita lungo un percorso di ricerca dall'inizio piuttosto complesso in quanto multidisciplinare e tutti direi gli autori hanno fatto un lavoro straordinario per cui molti dei commenti positivi che abbiamo ricevuto oggi in realtà sono da girare e gireremo immediatamente agli autori perché veramente sono abbastanza colpito dal lavoro che hanno fatto e quindi trasportiamo molto del merito su chi ha scritto i capitoli ora grazie per i numerosi spunti in realtà non è come dire più che rispondere alle domande volevo fare una riflessione conclusiva anche alla luce del tempo che abbiamo a disposizione alla luce degli stimoli che ho ricevuto io dai vari interventi e poi alla fine dirò qualcosa invece sulle aspetti più puntuali sollevati a Chiara Rodi Rizzini e dallo studente non soltanto su welfare fiscale ma su reddito di cittadinanza allora chiaramente vado con l'accetta perdonatemi perché sono davvero una reazione a molti degli stimoli che ho ricevuto e però la prendo da una riflessione che ha fatto Davide Natali cioè se due riflessioni aveva messo sul tavolo da un lato se il processo di policy e anche la dinamica politica nel settore del welfare fiscale in Italia si caratterizza in modo peculiare in Italia rispetto ad altri paesi in particolare anche semplicemente guardando agli Stati Uniti o se invece come dire ne condivide alcuni tratti e secondariamente se la dinamica che ha assunto il welfare fiscale in Italia può ricondursi entro un disegno complessivo chiaramente indirizzato o se è una navigazione senza rotta come abbiamo detto noi nel volume allora ricostruendo un po' gli stimoli che sono arrivati oggi a me pare che come dire l'espansione del welfare fiscale italiano da un lato denota le stesse problematicità che si osservano anche in altri paesi e quindi in questo senso come dire sia sul piano di policy che di politics può essere avvicinabile alle esperienze di altri paesi però mi pare che in Italia l'espansione del welfare fiscale soprattutto diciamo negli ultimi 15 anni abbia una peculiarità tutta propria che è caratterizzata sarò brutale da quello che in senso proprio direi ha una mancanza di capacità di governo in senso profondo è chiaro che c'è un governo che prende delle decisioni ma la capacità di governo si fonda dire su alcuni presupposti che consentono di individuare di tracciare delle prospettive di lungo periodo a me pare che in realtà quello che è venuto fuori un po' dall'analisi del volume ma anche dalla discussione è che di fatto gli interventi che sono stati attuati sul fronte del welfare fiscale in Italia si erano caratterizzati da come ha detto Tommaso giustamente una sfiducia antistatalista che è connessa ne parlavamo prima anche qui a Margine Condiana anche a una sfiducia nella capacità dell'amministrazione pubblica di andare a sviluppare determinati servizi questo come elemento exante alla presa della decisione politica e già qui chiaramente uno Stato un governo che deve governare con la sfiducia rispetto all'amministrazione e al ruolo che lo Stato può giocare è già un governo con le mani legate nel momento della presa della decisione politica diceva giustamente Tommaso prevale l'orizzonte di breve periodo di policymaker lo conosciamo è tratto comune a tutti i policymaker però prevale orizzonte di brevissimo periodo diceva giustamente Tommaso e miopia politica quindi nel momento della presa della decisione c'è questo secondo elemento che devo dire caratterizza secondo me molto il contesto italiano negli ultimi 15 anni alla luce della trasformazione del sistema partitico e anche delle coalizioni di governo che obiettivamente non hanno un chiaro orientamento programmatico lasciando stare il collegamento con l'elettorato se non il governo giallo-verde e quello è un altro discorso nella fase post presa di decisione politica quello che giustamente emerso richiamava anche qui bene Tommaso è la debolezza della valutazione la debolezza della valutazione come tratto strutturale direi a questo punto del sistema politico italiano e non soltanto la valutazione istituzionale in termini di moritoraggio delle politiche pubbliche ma la debolezza della valutazione delle politiche da parte dei corpi intermedi sindacati in primis da parte dell'accademia non tanto come quantità di ricerca perché l'accademia italiana lavora in realtà sulla valutazione ma anche nell'interazione con i corpi intermedi con il governo in parte alcuni governi e soprattutto con il rapporto con i media c'è molta delle analisi e delle approfondimenti a volte interessanti per capire dove potremmo andare di fatto ai media non ci arrivano nemmeno perché il processo di selezione degli speaker nei media è abbastanza particolare in Italia per cui in questo senso la sindrome si caratterizza nella fase ex ante della presa la decisione è ex post come davvero un'assenza di capacità di governo in senso proprio e quindi come assenza di capacità di informare le decisioni che vengono prese da quello che appunto ICLO chiamava processi di puzzling cioè di interrogazione collettiva che non deve essere per forza consensuale ma interrogazione collettiva su quelle che sono le migliori decisioni da prendere o ad esempio su quelli che sono gli effetti appunto distributivi e redistributivi delle decisioni e saper e qui mi aggancio allo stimolo diciamo che veniva da Tommaso sul e anche da in parte da David cosa dobbiamo fare a questo punto di questo welfare fiscale tutto da buttare via o si può salvare dei pezzi è evidente che in realtà già dall'analisi emergono come dire degli profili differenti anche in termini redistributivi della welfare fiscale in alcuni settori il profilo è molto più regressivo premesso che come dire sul piano normativo si possono anche apprezzare gli effetti regressivi ma se vogliamo combinare equità efficace ed efficienza è chiaro che l'effetto regressivo in un'epoca sostanzialmente di risorse vincolate è da evitare e qui i profili distributivi sono molto diversi per cui sulla famiglia il profilo è molto più progressivo la casa e dopo torno sul tema è molto regressivo molto regressivo sulle pensioni e la sanità è sostanzialmente regressivo ma qui su pensioni e sanità quello su cui appunto un governo capace di governare con la G maiuscola deve riuscire a fare è non soltanto adottare interventi al margine ma se vuole sfruttare la leva del welfare fiscale agganciarla a questo punto a 30 anni dalle grandi riforme ad esempio di pensioni e sanità degli anni 90 a un ridisegno complessivo del sistema cioè come e se la leva fiscale può essere utilizzata per favorire trasformazioni dei sistemi ad esempio pensionistico e sanitario in modo da non generare effetti effetti soltanto regressivi e come soprattutto questo welfare fiscale e collegato un welfare occupazionale deve agganciarsi a quale tipo di welfare pubblico cioè la riflessione che va fatta è sull'incastro come dicevo in un vecchio lavoro del 2017 tra il welfare occupazionale eventualmente anche fiscalmente agevolato ma bisogna vedere con che modalità e il tipo di welfare pubblico e lì c'è da fare una grossissima riflessione queste capacità secondo me di governo che vuol dire ad esempio in quei due settori prendere atto di 30 anni di riforme degli effetti che ha improdotto e ricominciare a ridisegnare riforme strutturali sostanzialmente quindi non vuol dire politica appunto micro distributive come invece è stato fatto mi aggancio gli ultimi tre cose rapide oltre alla capacità di puzzling cioè di interrogarsi collettivamente su gli effetti delle politiche e in che direzione vogliamo andare in questo paese stante anche il profilo delle coalizioni di governo c'è stata anche una come dire debolezza sul versante di powering soprattutto lo dico a sinistra perché in realtà a destra la capacità di powering si vede chiaramente che c'è vuol dire c'è una coalizione che assume conformazioni diverse ma ha dei principi identitari che ci possono piacere o meno ma sono chiari e si trovano dentro quella coalizione a sinistra la capacità di powering cioè di assieme al puzzle cioè di individuare vuol dire opzioni programmatiche strutturali coerenti che si agganciano a dei solidi principi che rappresentano diciamo il centro-sinistra italiano negli ultimi 15 anni mi sembra evidente come dire che questa capacità è mancata e anche di costruzioni di costruire coalizioni di interessi che determinano una gerarchia sostanzialmente di preferenze cioè quando si parla di welfare è evidente che i sindacati necessariamente e i datori di lavoro quindi le grandi organizzazioni datoriali e la rappresentanza dei lavoratori devono ovviamente avere preeminenza sulle grosse decisioni di politica di welfare questo è quello che è successo negli anni 90 alcune poi sono state disegnate male però come dire sulla previdenza complementare 92, 93, 95 è concertazione tripartita con tutti i limiti della stessa ma è chiaro che se si apre molto all'entrata di altri interessi poi come dire gestire la matassa diventa praticamente impossibile e alcuni effetti possono essere effettivamente molto problematici penso al campo pensionistico due battute invece sulle domande secche diciamo su gli stimoli di Chiara su housing giusto per richiamare un paio di cose sì l'housing pubblico è costoso ma avevo appena presentato i dati sulla spesa sociale divisa per settori a livello medio europeo si spende sulla protezione sociale in campo diciamo housing circa l'un per cento del totale della spesa sociale quindi non non del pil quindi costoso ma con molte virgolette perché chiaramente è piuttosto limitato come settore se pensiamo dall'altro lato che invece l'ammontare del welfare fiscale in campo a casa ammonta a circa l'un per cento del pil chiaramente in realtà queste sono opzioni di policy strategiche cioè le destiniamo appunto in forma estremamente regressiva ai proprietari di case o utilizziamo invece 0,3 0,5 del pil per come dire strutturare rinfrastrutturare in termini di housing sociale e diciamo quindi più verso per coprire la per tutelare la fascia meno ambiente della popolazione idem sulla transizione come dire combinazione di welfare e transizione energetica anche lì se guardi il profilo della spesa su welfare fiscale vedi che in realtà quella spesa va tutta a favorire le fasce più ambienti ora le case delle delle dei ceti più ambienti della popolazione hanno meno bisogno chiaramente di interventi in termini di efficientamento energetico dovresti utilizzare se vuoi anche la leva del welfare fiscale è proprio verso i ceti meno ambienti e le abitazioni dei ceti meno ambienti che hanno bisogno sì di come dire essere efficientate dal punto di vista energetico con le implicazioni sulla salute da ultimo su reddito di cittadinanza zona di comfort premesso che con reddito di cittadinanza zone di comfort io ne vedo poche perché stiamo parlando di strumenti e prestazioni monetarie medie quindi del valore di 500 euro al mese quindi stiamo parlando di quegli strumenti di ultima istanza contro la povertà che in tutta Europa esistono e non generano questo dibattito chiaramente il tema per chi può essere attivato per i beneficiari che possono essere attivati dell'attivazione è un grosso tema è ampiamente discusso naturalmente valutare l'esperienza del reddito di cittadinanza che come sappiamo in realtà viene lanciato effettivamente nel 2020 e poi va a incontrare la pandemia dal punto di vista dell'attivazione è obiettivamente un po' difficile in termini di valutazione di come ha funzionato l'attivazione detto questo chiudo dicendo che l'attivazione si può fare laddove naturalmente c'è domanda di lavoro da parte delle imprese quindi questo chiaramente implica che l'attivazione la puoi fare molto più al nord che al sud e che bisogna costruire buone infrastrutture ben disegnate naturalmente per chi può essere occupato però tenete conto che un bell'articolo di Baldini di qualche anno fa già al tempo del reddito di inclusione mostrava come circa il 50% dei percettori in realtà non possono essere occupati quindi anche qui l'ambizione o meglio l'auspicio è che si avvii un vero processo di interrogazione collettiva sulla funzione di questi strumenti guardando anche come vengono utilizzati in altri paesi e depoliticizzando se vogliamo la discussione perché davvero alla fine ve lo dicevo prima stiamo parlando di 8 miliardi 0,3 0,4% del PIL su welfare fiscale ne parlavamo prima sono 70 miliardi sulle pensioni sono 320 miliardi quindi insomma bisogna anche un attimo relativizzare l'intensità del conflitto rispetto a ciò di cui stiamo discutendo grazie e grazie a tutti davvero per gli stimoli perché sono stati molto utili il coautore vuole aggiungere qualcosa o perché sono le sette ha parlato Matteo sarà estremamente breve faccio due riflessioni una prima anche perché dopo due ore di riflessioni è giusto smorzare chiaramente faccio i complimenti e ringrazio che ci ha organizzato intanto una bellissima notizia che ho saputo su Tommaso al di là dei Red Sox è un tifoso di baseball e questa sarà una fonte di nostre discussioni in futuro visto che io sono un tifoso appassionato dei Brewers avremo da discutere tra squadra della Major League detto questo no non aggiungo nulla rispetto a quello che dice Matteo però un solo elemento che è uno dei fili che secondo me lega tutti gli interventi molto interessanti che ho sentito e cioè il welfare fiscale mi sembra un perfetto specchio a seconda di quale sia il nostro oggetto di studio cioè io e Matteo abbiamo iniziato ad occuparsi di welfare fiscale perché venivamo da una tradizione welfareista quindi eravamo interessati a capire l'interazione fra welfare e welfare fiscale ma poi alcuni degli altri interventi come ad esempio per fare un esempio l'intervento dell'avvocato Ruffini ci dicono è molto interessante vedere il welfare fiscale rispetto al funzionamento del sistema fiscale punto cioè la parte di welfare fiscale più interessante di lavorazioni fiscali più interessanti da un certo punto di vista da guardare sono come funzionano come toppa rispetto a un sistema fiscale che riesce sempre meno ad essere equo progressivo e redistributivo così sulla stessa linea se uno vuole analizzare come funziona la politics in Italia l'intervento di Tommaso è molto interessante perché il welfare fiscale lo si può vedere come un esempio di incapacità di riforma fra l'altro Tommaso ho preso degli appunti bellissima questa cosa che io non avevo colto noi non avevamo colto questa idea della discrezionalità nel gioco fra burocrazia e decisore politico sarà un tema da approfondire ma di nuovo è interessante perché va al di là del welfare fiscale riguarda la politics in generale delle tax expenditures e riguarda anche altri aspetti quindi di nuovo ci si vuole occupare di politics il welfare fiscale è un buon modo per studiare la politics come soggetto principale di cui il welfare fiscale diventa un esempio ci si vuole occupare di pubblica amministrazione è un tema che è tornato anche con accenti differenti questo elemento che è comune a una parte della letteratura internazionale in cui si dice in alcuni paesi in cui c'è difficoltà a sviluppare una pubblica amministrazione che investe sui servizi il welfare fiscale e le agevolazioni fiscali più in generale sono viste apparentemente come uno strumento per evitare che le strozzature che ci sono nell'efficienza della pubblica amministrazione blocchino investimenti in servizi però Davide ci raccontava ci ricordava bene che sì questo apparentemente sembra facile sembra la via più facile ma non sempre funziona ultimi due elementi faccio una citazione breve nel libro noi parliamo di un filone di letteratura che parla di social policy by other means cioè c'è questa letteratura che dice guardate che si possono ottenere risultati tipici o si possono provare a ottenere risultati tipici di protezione sociale interventi sociali che in genere si fanno tramite il welfare pubblico anche con altri strumenti uno di questi può essere il welfare fiscale ecco secondo me la cosa interessante del libro e questo si lega anche a quello che poi diceva Chiara alla fine è che di nuovo il welfare fiscale può essere una politica industriale o una politica energetica ambientale quindi un altro tipo di politica fatta con strumenti non convenzionali io come dico quando discuto di questo libro in alcuni passaggi ho avuto l'impressione che ci sono stati governi che hanno adottato strumenti di welfare fiscale ma perché l'obiettivo vero erano politiche industriali che era difficile portare avanti il settore dell'edilizia lo ricordava anche Chiara è uno di questi il settore dell'edilizia ha perso il 25% degli occupati con la crisi del decennio passato non c'è un altro settore economico metà delle agevolazioni in welfare fiscale a mio parere nel settore dell'housing non sono state pensate sono state presentate come politiche di efficientamento energetico come politiche di sostegno alla dimensione sociale dell'housing ma la mia grande impressione dell'analisi che è stata fatta è che sono state pensate innanzitutto come politiche di rilancio del settore insieme a tanti altri strumenti cioè occorreva rilanciare il settore c'erano altri interventi che servivano per cercare di rilanciare la produttività delle imprese e il welfare fiscale è stato usato per rilanciare la produttività delle imprese poi che sia stato concentrato sul welfare è perché in quel caso il welfare era funzionale era funzionale da un disegno di politiche industriali quindi concludo su questo e su quello che diceva Chiara concludo il mio intervento anche ringraziando per la pazienza visto che abbiamo superato le sette sì, sarà interessante eseguire diciamo la soluzione che Chiara dava rispetto anche a strumenti di welfare fiscale o aggiorazioni più in generale per politiche in campo sia energetico che in campo ambientale proprio perché c'è questa estrema dottilità di questi strumenti con il rischio sempre però che come dicevamo noi diceva Davide all'inizio lo strumento viene utilizzato per una molte semplicità di fini che non sono solo legati al welfare ma il risultato è che poi si va verso una navigazione frammentata in cui si perdono di vista spesso perché ci sono effetti non previsti cioè quelli che appunto Boudon chiamava gli effetti perversi dove perverso significa non previsto in alcuni casi negativi in altri non previsti perché si entra in una tale complessità del sistema da un lato di welfare dall'altro delle politiche industriali e del sistema economico da un altro ancora del sistema tributario e fiscale e della pubblica amministrazione che inserire questi strumenti che apparentemente sembrano semplici da gestire crea spesso in alcuni casi proprio effetti non voluti o effetti non stimati all'inizio però ecco io suggerisco e sarà il nostro prossimo passo e già vedo la disperazione negli occhi di Matteo perché sa che si lavorerà anche il giorno di Natale il prossimo passo saranno agevolazioni fiscali oltre a quello che abbiamo cercato di fare chiudiamo cioè il tema del welfare fiscale e del fisco è un tema che tipicamente viene trattato da giuristi e da economisti appunto sexp01 o scienziati delle finanze o sexp02 quello che abbiamo cercato di fare noi di più è portare la politica all'economy dei sociologi e dei politologi insieme agli economisti dentro questo frame secondo me il passo successivo sarà farlo sull'agevolazione fiscale in generale e più in generale sulle politiche fiscali c'è relativamente poca letteratura non economica o giuridica soprattutto economica sull'analisi delle politiche fiscali è stato per questo libro difficilissimo ad esempio trovare tipologie di paesi classificabili in base ai sistemi fiscali che usano se compariamo a paesi occidentali mentre sul welfare abbiamo 3-4 tipologie fortemente consolidate tipologie di politologi e sociologi ma anche di economisti che dicono c'è un modello liberal adesso faccio un esempio rispetto al welfare c'è il modello social democratico queste tipologie quando si fanno studi sul fisco non esistono o non sono così raffinate Matteo sorride e quindi già sapete che tra 4-5 anni arriverà il nostro prossimo libro sul tema vi ringrazio ancora tantissimo a tutte e tutti ed è stato un piacere ascoltarvi e discutere con voi il libro e grazie ancora grazie grazie anche da parte mia a questo punto siamo arrivati alla chiusura anche perché i miei poveri studenti ormai qua sono contentissimi perché li vedo contenti però anche perché a una certa ci chiudono dentro qua quindi dobbiamo andare via io veramente aggiungo solo una piccola parola a quello che stavi dicendo Emanuele non dimenticatevi degli studiosi dell'amministrazione perché in tutto questo ragionamento che voi avete fatto e che riprenderò poi con i miei ragazzi in aula se volete appunto il tema centrale che incrocia tutto è questo è la pubblica amministrazione e quindi cosa facciamo perché non è che basta il PNRR con un intervento spot e potrei parlare due ore su questo per risolvere il problema quindi vediamo di lavorare insieme sul serio e questo spero che sia stato appunto un avvio di una collaborazione futura con tutti voi vi ringrazio infinitamente e vi restituisco alla vostra serata grazie davvero e quindi alla prossima ma magari anche prima del prossimo libro grazie a tutti grazie Gabriele buona serata ancora e grazie grazie Gabriele grazie Diana ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti